vediamo io voglio che mi ritorna quando ho inserito il record nel menu, cioè qua e non che si chiuda allora via 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 dopo controllo anche locately controllo i dati e premio n per validare record inserito vediamo e mi torna dentro ok 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 però questo è un ciclo infinito adesso sti cazzi per ricominciare nota c'è che sono uscito allora ok and if sub record inserito ok no perché lui sembra tutto facile qua ha tolto il goto qua tolto il goto eh vabbè non si può tolto vogliere non si può tolto vogliere mi ritorno dentro ah 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 che stupidino che stupidino colpa mia mancava bah all'es è certo è un ciclo10 per forza ah 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 andiamo ancora a rimediare la allora n record inserito e finisce porca troia io non voglio che finisca comunque proviamo a mettere un altro tasto e ritorna perfetto perfetto ok n slip and if and sub adesso però ok Grazie a tutti. No, questi qui van bene, quelli che volevo rifare però erano tutti questi locate qua, vabbè, intanto lo lasciamo lì. Allora. E' uguale a quello che... Allora sei scemo. Allora, cioè, cambia le carte in tavolo, questo qua. Allora, prima è cold, dopo... Ma porca troia, scusami. Perché devi essere così merda? Vabbè, con l'inserimento, vabbè. Ma qui... E' sbagliato anche il suo. Cazzo. Io voglio che mi vada il menu principale. Non voglio farlo dentro la sub. Allora, vediamo. Vediamo se così ci capiamo meglio. Non è abbastanza intelligente, a quanto pare. Existatement. Existube. Volevo farlo prima, ma mi sembrava che... E' uguale a J. Printi, quindi stamperà 50 volte. Annivalist, ok. Oh, ma la sovruttino, vabbè. Annivalist, ok, è cold test. Annivalist, ok. Esci dalla sub, quindi va nel programma principale, teoricamente. Niente da fare. Rompo nei coglioni con i cookie. Allora. Qua non c'è un cazzo che mi serve. Fa un culo. Proviamo così. Proviamo. Uno. Sì, dopo devo rimettere a posto quello. Allora, M. Maiuscolo. Ok. E niente da fare. Non c'è un cazzo che non c'è qualcosa. Assisti patterns. E niente